Impiantus Idraulico Impiantus Idraulico è il software della soluzione Impiantus che consente la progettazione di impianti idrosanitari e di scarico delle acque reflue attraverso un semplice ed intuitivo input ad oggetti grafici i quali consentono di descrivere le caratteristiche tipologiche e dimensionali dell'impianto Attraverso il disegno risulta immediato progettare l'impianto semplicemente posizionando sulla tavola gli oggetti grafici parametrici come ad esempio lavabi, preparatori per acqua calda sanitaria collettori e tutti i componenti dell'impianto In maniera precisa e veloce è possibile inoltre definire i collegamenti fra i vari elementi dell'impianto stesso Ogni oggetto ha una sua rappresentazione grafica parametrica è dotato di proprietà accessibili e modificabili in ogni momento attraverso un Object Inspector Per il lavabo, ad esempio, è possibile configurare i dati in base alla normativa UNI EN 806 oppure secondo la UNI 9182 I dati per l'impianto di scarico, invece, in base alla UNI 12056, parte seconda Attraverso la libreria dei simboli idraulici si può creare una propria libreria personalizzata importando simboli nei formati DXF e DVG organizzandoli anche per categoria Per gli impianti che richiedano una sopraelevazione della pressione è possibile disporre della progettazione assistita del gruppo di pressurizzazione in base alla tipologia di allaccio e dalla configurazione del gruppo Il programma individua automaticamente i circolatori che soddisfino i requisiti La scelta potrà avvenire visualizzando direttamente la curva dell'impianto e la curva caratteristica della pompa È inoltre possibile dimensionare la capacità dell'autoclave e dell'eventuale serbatoio grazie al vasto archivio fornito a corredo del programma Attraverso specifici oggetti parametrici è possibile progettare gli impianti di scarico delle acque reflue utilizzando lo stesso architettonico su cui è stato già definito l'impianto di adduzione Le tubazioni di adduzione e di scarico oltre che manualmente possono essere disegnate anche con opzioni automatiche che semplificano il lavoro attraverso la definizione di percorsi a pavimento o a parete, ad esempio Nelle proprietà della tubazione è possibile anche impostare manualmente il diametro in modo da poter effettuare immediatamente una verifica dell'impianto Per le reti idriche sanitarie è possibile dimensionare i preparatori di ACS sia ad accumulo che istantanei sulla base del consumo orario contemporaneo di acqua calda sanitaria calcolato automaticamente in funzione del fabbisogno delle utenze La stessa fase di input grafico è assistita da una diagnostica step by step in grado di evidenziare puntualmente le eventuali anomalie di disegno tratti non connessi giunti non connessi e guidare in maniera precisa al punto di intervento Impianto sidraulico supporta la fase di progettazione anche con un ricco archivio da cui attingere gli articoli da associare agli elementi dell'impianto modificabile ed integrabile secondo le proprie esigenze Il programma consente di importare file dai formati DXF e DVG da utilizzare come sfondo per la progettazione dell'impianto file questi che è possibile completare con le entità architettoniche disponibili nel software A calcolo eseguito si otterrà in automatico la documentazione di progetto a partire dagli esecutivi sui quali sarà possibile visualizzare tutti i componenti anche in maniera selettiva I disegni prodotti sono esportabili in vari formati oltre ai classici DXF e DVG Il programma produce una relazione tecnica completa di tutte le informazioni dai dati a carattere generale alle norme di riferimento alle metodologie di calcolo adottate al dimensionamento degli impianti La relazione è personalizzabile stampabile ed esportabile in diversi formati grazie all'editor di testo integrato nel programma Inoltre, grazie all'integrazione con Primus DCF è possibile ottenere in maniera completamente automatica il computometrico degli impianti progettati Impianto sidraulico il software ad oggetti grafici parametrici che integra totalmente la progettazione degli impianti idrosanitari e il scarico di acqua reflue Inoltre, grazie all'integrazione Grazie all'integrazione Grazie all'integrazione